La questione del mercato. A luglio anticipai, annunciai, che da gennaio avrei spostato il terminal bus per i motivi che prima ho elencato e di conseguenza avrei delocalizzato temporaneamente l'area mercatale. Perché dico temporaneamente? Perché poi è evidente che attraverso anche una deliberazione di consiglio e anche l'approvazione del SIAD di questo piano relativo alle attività commerciali dovremo trovare la collocazione definitiva. Quando mi dicono che lei ce l'ha con gli operatori del commercio e del mercato di settimanale ma chi ve lo dice? Io rispetto, ne ho grande stima e nutro anche apprezzamenti nei loro confronti. Però c'è un tema. Secondo la legge 1-2014 le concessioni sono terminate. E che se ne dica? E non c'è la Bolkestan, non la Bolkestan, sono terminate. La legge è chiara su questo. Il 100% o più o meno è evasore totale rispetto alla Tari. Attenzione direttore. Parliamo di percentuali che uscirono tra il 95% e il 100%. Che negli ultimi 5 anni hanno pagato 0 di Tari. Mentre lei no perché non è di Avelino. Noi pagavamo il servizio, il bollettino, per un servizio che veniva erogato anche a chi non pagava. Non funziona così. Quindi abbiamo anche una condizione di morosità per la Tari 95-100%. Per la Tosa 60% che deve essere sistemata. A questa si è aggiunta l'esigenza di chiedere alla Regione l'autorizzazione per pubblicare un nuovo bando per le concessioni. Se sono scadute bisogna fare un nuovo bando. Confermi che chi non è a posto con Tari e altri tributi tra i commercianti e i ambulanti non vedrà rinnovata la licenza, la concessione per poter... E pleonastico vanno confermo. Come puoi fare? Allora, per rivendicare i tuoi diritti, devi prima aver rispettato i tuoi doveri. Questa è una regola elementare. Io vado a rivendicare un mio diritto quando per prima... Quindi chi non ci metterà in regola con Tosa, Pettari, non potrà continuare... Non potrà rivendicare il posteggio.